Come il buon pastore abruzzese, guida il proprio greggio con un solo bastone, anche io voglio poter governare la mia cozzaglia di pc con un solo mouse. Ma sarà possibile farlo in modo rapido, affidabile e preferimente gratuito? Da una rapida ricerca salta fuori un programma di nome barrier, che sembra avere tutti i requisiti. Infatti, consente di condividere il mouse, la tastiera e gli appunti, con collegamenti sicuri tra più computer, anche con sistemi operativi diversi, supportando Windows, Linux e Mac OS. Basta installarlo su tutti i computer, configurando come server quello in cui è fisicamente collegato il mouse e come clients tutti gli altri. Per Windows e Mac OS basta scaricare ed installare i file di installazione. Mentre per i sistemi Linux basta installarlo dai gestori dei pacchetti, tipo Snap e Flatpak. Nel video eseguo tutti i passaggi per configurare un pc GNU Linux Fedora come server e tre clients. Uno Windows 10, uno GNU Linux Debian ed uno GNU Linux Xubuntu. Nel PC server bisognerà selezionare la modalità server, assegnare i nomi e la disposizione virtuale dei monitor del PC clients, ed aprire le porte del firewall, se presente. Mentre nei clients si deve selezionare la modalità client, ed indicare l'indirizzo IP del server. Inoltre, in tutti i computer, opzionalmente, si dovrà effettuare la procedura per l'avvio automatico del programma, variabile a seconda del sistema operativo. Dalle mie prime prove tutto sembra funzionare molto bene, a parte situazioni di carico estremo che creano dei rallentamenti nel puntatore. Per aumentare la produttività è sicuramente un ottimo alleato, ma non ditole al vostro capo, casomai non conoscesse questa possibilità, altrimenti non mi farà più schiodare dalla sedia. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 a tutti.